Notizie di Prato Tg, a tutti buonasera. Illegalità economica, l'allarme della CGL dopo i cinesi, ora si apre un altro fronte, quello dei bengalesi. Sentite, Leonora Barbieri. Potrebbe ampliarsi ulteriormente lo spettro di illegalità economica che ruota attorno al distritto tessile pratese, che fino a ora è stata un'esclusiva dell'imprenditoria cinese. La minaccia stavolta arriva dai bengalesi, che potrebbero mettere radici in città per costruire un sistema produttivo simile a quello di Napoli, dove si cuce a bassissimo costo per i grandi marchi della moda, sfruttando il lavoro di connazionali e in barba ad ogni regola, protetti dalla camorra. L'allarme è stato lanciato dalla Filtem CGL dopo il blitz interforze coordinato dai carabinieri mercoledì in una ditta vaiano, gestita da una coppia di bengalesi con mano d'opera nero bengalese. Si tratta di un caso singolo o è la spia di qualcosa di più che senza un contrasto veloce ed efficace si espanderà a macchia d'olio, come è successo per quello cinese? E che possa essere il segnale anche di una miscela esplosiva che possa accendere la situazione di questo distretto. I sistemi per frodare lo Stato sono molteplici, ma la soluzione resta sempre la stessa, far pagare alla committenza ciò che non paga il terzista, a cominciare dai contributi evasi, in modo da responsabilizzarla nella scelta e nella verifica degli appalti. La legge c'è e in alcune parti d'Italia è applicata, l'Inps di Prato nicchia ancora. La Filtem ricorda anche un'altra legge utile e applicabile in questo campo, quella che prevede l'arresto per chi schiavizza i lavoratori. Noi diciamo da tempo che se non si contrasta questo sistema, ma ci si limita a controllarlo, si sarebbe diventati attrattivi per chi vuole lavorare in maniera legale e per chi vuole sfruttare il lavoro in questo paese. Sembra che questa cosa stia succedendo perché se i sistemi si spostano e i sistemi difficilmente convivono, sistemi diversi sullo stesso territorio, noi rischiamo veramente tanto. Quasi 16.500 utenti non si sono presentati all'appuntamento per le visite prenotate alla ASL, per visite appunto ma anche per esami e ora sono chiamati a pagare una sanzione. Più di 16.000 tra visite mediche ed esami saltati nel 2017 a Prato perché il paziente non si è presentato all'appuntamento, 50.000 contando anche Firenze, Empoli e Pistoia, gli altri territori dell'ASL Toscana Centro. E' il bilancio dell'azienda sanitaria che ha anche contato le prestazioni annullate, quasi 57.000 a Prato e quasi 600.000 complessivamente, e quelle prenotate che nell'area pratese sono state 736.000 e in tutto oltre 3.500.000. Chi prenota e non si presenta paga la sanzione, il cosiddetto malum, così come prevede la normativa nazionale recepita dalla Regione. Un numero altissimo, le 16.000 prenotazioni non rispettate, anche perché non disdire significa non consentire di scorrere la lista d'attesa e perciò lasciare il posto ad altri pazienti. A Prato e a Firenze l'ASL ha messo a punto un sistema di SMS che ricorda il giorno e l'orario dell'appuntamento e come fare eventualmente ad inviare la disdetta, un sistema che presto sarà esteso a tutto il territorio di competenza. Due ciclisti rimasti coinvolti in altrettanti incidenti ieri sera, il primo poco dopo le 22.30, tra la tangenziale e la declassata a Capezzana, vittima a un pakistano di 24 anni che si è scontrato con un'auto condotta da una cinese. Il giovane è stato soccorso in codice rosso e portato all'ospedale. Secondo incidente in via del Purgatorio, poco dopo mezzanotte, un'auto ha tamponato la bici su cui viaggiava un 24enne originario del Ghana. Il conducente si è allontanato ma un testimone è riuscito a dare informazioni alla Polizia Municipale che ha rintracciato una donna cinese. Dopo le prime indagini è emerso che questa donna, che è stata poi denunciata per omissione di soccorso, non aveva mai conseguito la patente. È stato sorpreso mentre cercava di oltrepassare le casse del supermercato senza pagare capi di abbigliamento per un valore di 68 euro. L'uomo, un georgiano di 27 anni, irregolare e con precedenti, è stato fermato in un supermercato di via Ferrucci dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un taccheggio. La merce è stata recuperata, restituita alla proprietà che è stata invitata anche a presentare querela. L'ite tra i vertici del Centro di Scienze Naturali e archiviazione bis per l'ex presidente Pamela Bicchi accusata dal suo predecessore. Sentite che cosa è successo. Notizia di reato infondata e procedimento archiviato per Pamela Bicchi, ex presidente della Fondazione Centro di Scienze Naturali di Galcetti, finita negli ingranaggi giudiziari per la querela presentata dal suo predecessore Massimo Calissi. Dimissionario a giugno 2009, dopo la vittoria del centro-destra alle amministrative con il sindaco Cenni è rimasto formalmente in carica fino all'inizio del 2011 che l'accusava di diffamazione. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato, Francesco Pallini, ha rigettato l'opposizione proposta da Calissi dopo la prima richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Laura Canovai e recepita dal giudice Alberto Lippini. La vicenda è stata chiusa nei giorni scorsi. Tutto ruotava attorno alla frase «Per dieci anni non è mai stato piantato un chiodo» pronunciata da Bicchi a febbraio 2012 in riferimento alla pregressa gestione del Centro di Scienze Naturali. Una frase che non riportava né nomi né cognomi né cariche come hanno sottolineato i difensori Fabio Generini e Gea Mostardini. Un passaggio sottolineato anche dal GIP Lippini che l'8 dicembre 2017 nel decreto di archiviazione motivava non è ravvisabile alcuna offesa diretta nei confronti del Calissi trattandosi di una espressione che si riferisce genericamente alla pregressa gestione del CSN di Prato nella quale non vengono fatti nomi e non vengono attribuite responsabilità specifiche. Nell'ultima ordinanza di archiviazione il giudice Pallini si è rifatto a numerose sentenze della Cassazione sui casi di diffamazione quando di medio c'è anche la critica politica condizione che in tema di diffamazione diventa espressione soggettiva che per sua natura non può, ha stabilito la Suprema Corte pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Prato a tutta birra, ultimi preparativi prima di aprire il sipario musica divertimento ma anche posti di lavoro. Eleonora Barbieri Dal 16 al 20 maggio in piazza del Mercato Nuovo torna Prato a tutta birra la manifestazione è giunta all'ottava edizione ed è sempre più apprezzata anche fuori dai confini cittadini e toscani lo scorso anno totalizzò oltre 20.000 presenze il successo è legato al giusto mix tra buon cibo, birra artigianale locale e internazionale musica per tutti i gusti e divertimento per tutte le età cominciamo dai concerti, tutti a ingresso gratuito sul palco saranno la Rino Gaetano Band il mercoledì sera dove suona il nipote di Rino Gaetano il giovedì sera sul palco salirà Tonino Carotone quindi per i meno giovani e il venerdì sera è il momento di Modena City Rambles invece per i più giovani speriamo di aver trovato i nuovi stato sociale ci saranno gli Eugenio in via di gioia i Coma Cose il sabato e Willy Peyote che è un rapper molto famoso ora a livello nazionale che ha suonato anche il primo maggio al concertone a Roma 6 i birrifici presenti di cui due tedeschi uno di Empoli e 3 di Prato lo storico mosto dolce premiato per la birra martellina fermento libero e i due mastri ne approfitteremo anche per presentare appunto il nuovo articolo del 2018 che è la Zia Ipa, un Indian Pale Ale ambrata da 5 gradi dove abbiamo voluto esaltare le caratteristiche del lupolo 10 diverse birre, molti delle quali saranno spillate con la tipica pompa inglese che è un metodo usato nei pub inglesi per spillare la birra senza gas spazio anche ai mercatini allo street food con la partecipazione di due noti ristoranti cittadini Lo Scoglio e Ravioli Cristina Siamo contenti di poter patrocinare questa iniziativa chiedendo ai giovani un consumo consapevole della birra abbiamo dei birrifici molto importanti che fanno una birra ottima, di grande qualità e quindi ci saranno dei momenti di svago e anche la possibilità di un assaggio fantastico Vacanze estive per gli anziani, il Comune sostiene i redditi più bassi, Alessandra Grati Per l'estate 2018 l'amministrazione comunale ripropone, dopo 5 anni dalla sospensione del servizio le vacanze per gli anziani E' stato pubblicato in questi giorni il bando per la gestione, con scadenza in 15 anni Dal 16 in poi sarà possibile presentare le domande Ritorna questa possibilità per gli ultra 65 anni autosufficienti che hanno la volontà anche di trascorrere delle giornate in serenità, in tranquillità insieme ad altri coetanei magari e che magari in passato non potevano partecipare perché non ne avevano la disponibilità economica quindi ci è sembrato giusto da parte dell'amministrazione come dire, rifare questo riintrodurre questa attività che riteniamo anche importante per la salute perché oggi il concetto di salute è un concetto più allargato non è soltanto lo star bene come dire fisicamente ma anche psicologicamente Il comune ha stanziato come contributo 25.000 euro che verranno assegnati in base alle tre graduatorie per reddito da 0 a 6.000 euro, da 6.000 a 12.000 e da 12.000 a 18.000 I soggiorni dureranno 15 giorni in località marina, di montagna e alle terme E' tutto, grazie per averci seguito Non ci sono altre notizie, arrivederci